I tuoi segreti guardi con nessuno, a un po' e meno anche il suo arco Dai, guarda, ti prego Ti amo di me Allora, un amico di tomare di cicli Deci 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 prossimo anno questo treno non ci sarà più prossimo anno questo treno non ci sarà più prossimo anno questo treno non ci sarà più ma quanti fermati barqui? uno allora lei la prossima allora due non ci sarà a a a a a a Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 E se l'avevi nascosto tra steve Infatti, ti ricordi che non ho usato la PlayStation E noi siamo andati in mano così Siamo andati a stazione dopo tutti i giornati Sino abbiamo aperto la porta e si mettono a Max Stavo mettendo tutta la PlayStation e non ho usato Non ho usato Hai usato la PlayStation e non ho usato Per te l'avevo usato Non ho scelto niente la PlayStation E io non ho scelto niente Non si può riuscire a fare Non ho scelto niente Non ho scelto niente E io non sto a parlare di quella roba E io non sto a parlare di stesse Non sono scelto niente Non sono andati Sto arrivando a Napoli Non ho capito che ci vieni di l'orario Grazie da tante ore non ce ne saranno più non ce ne saranno più Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.